da chiara si tengono mano evviva mi fermo a pochi minuti volevo ringraziare tutta la struttura del fate bene fratelli il professor zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue e cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui è importante bene devo ancora riprendere il mio pulchino ho bisogno di riposo ma sto bene vi ringrazio come è stata questa settimana? avuto paura? ciao buona notte grazie grazie ciao ciao Franco ciao 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 sono tutto un po' più ciacchiano guarda, ma fa meglio che cosa no 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 ma non c'eri qua no no magari colate c'è una camera Grazie a tutti.